Benvenuti, cari follower. Se le previsioni saranno confermate. Il caldo è ufficialmente terminato con il ritorno dei forti temporali sull'Italia a partire da domani, con 72 ore di maltempo senza sosta, con rischio di forti alluvioni. Ma prima di entrare nei dettagli, spero che tutti voi ci sostenete e incoraggiate premendo il pulsante. Mi piace per questo video, perché il canale sta affrontando grossi problemi tecnici e potrebbe chiudere in qualsiasi momento. Quindi abbiamo bisogno del vostro supporto premendo il pulsante. Mi piace pulsante per questo video. Grazie. Una forte ondata di freddo con maltempo e temporali molto forti travolgerà l'Italia a partire da domani, domenica 23 giugno, e proseguirà fino alla mezzanotte di martedì 25 giugno, con abbondanti precipitazioni che cadranno sul centro e nord Italia, prossime o superiori a quelle previste. Barriera di 200 mm come tasso di accumulo, quindi a partire da domani, domenica 23 giugno 2024. Temporali molto forti in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, con rischio alluvioni e rischio grandine nelle zone all'interno del cerchio rosso. Lunedì 24 giugno, temporali molto forti su varie zone di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Nord Sardegna, con rischio alluvioni improvvise e rischio caduta di chicchi di grandine in alcune zone. Martedì 25 giugno, temporali molto violenti, accompagnati da vento e grandine, con rischio allagamenti sul nord e centro Italia, in particolare Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise. Qualsiasi altra notizia importante cercheremo di aggiornarvi più tardi.